A Berlino sono iniziate le festività natalizie e il famoso zoo di Berlino festeggia trasformandosi in un giardino di Natale. I visitatori potranno percorrere un tragitto di due chilometri interamente circondati da luce e musica. Quest'anno lo zoo di Berlino presenta il tema della natura, un ambiente dal quale, secondo gli esperti, si possono ottenere notevoli effetti positivi. Lo hanno dimostrato recenti studi scientifici, presentando una vasta gamma di benefici per le persone che si connettono alla natura. Anche semplicemente visitando uno dei tanti giardini zoologici che esistono e che sono stati spesso criticati. It helps you restore all the resources you need to process information, to make decisions and positive effects on your mood. It makes you more calm and relaxing in a joyful and positive mood. Research has shown that nature helps people with everything from creativity to productivity. One study found that people who spend time outdoors in the evening are more productive the next day. And it doesn't even have to be a real nature. Depictions of nature have been found to help people as well. Questi benefici potrebbero essere particolarmente utili nei mesi invernali, quando le persone tendono a rimanere in casa più a lungo. Con il cambiamento climatico però, alcuni scienziati affermano che la possibilità di uscire negli ambienti naturali sarà più importante che mai. E con il sole che a Berlino tramonta già le 4 del pomeriggio, lo zoo offre la possibilità di vedere il lato positivo dell'oscurità, ma senza dimenticare le luminarie di Natale.